reso noto dalla provincia uno studio sul reddito dei piacentini ricavato dalla banca dati del mef il reddito medio annuo degli abitanti della provincia di piacenza è stato di 22.406 euro di poco più alto rispetto alla media nazionale assestata a 20.799 euro ma i piacentini in quanto a reddito in regione sono solo quinti dietro a bologna parma modena e reggio emilia i contribuenti totali in provincia di piacenza sono stati 211.713 in provincia di piacenza sono 2028 i paperoni che guadagnano più di 120.000 euro all'anno e 49.841 quelli che non arrivano a 10.000 euro annui e quindi dopo la pandemia a forte rischio povertà è possibile un funerale a basso costo a piacenza abbiamo voluto dare alla possibilità un cittadino di piacenza spendere qualcosa meno con le stesse qualità perché portiamo lo stesso la nostra panamera e portiamo il nostro servizio come fosse un funerale di alta qualità perché al giorno d'oggi purtroppo anche molte persone non hanno possibilità di affrontare una spesa funerale come spesso capita casa del funerale funerali a partire da 1300 euro con la qualità che solo esperti professionisti ti possono dare casa del funerale a piacenza in via veneto 35 telefono 0523 652978 0523 68